Leo, siamo pronti a giocare! Guarda ci siamo vestiti anche come le pedine del tavolo! Io sono celeste! Guarda, siamo identici! Abbiamo fatto un bel lavoro l'uomo! Sì, però c'è un problema! Guardate lì, lì! Leo, dimmi come mi si deve! No, allora io ho messo il gioco e c'era la carta e la corda! La corda è lì! Ma significa che quindi anche c'è una persona lì nel bagno? Aspetta! No, no ragazzi! Qui fa vedere che c'è la corda e lì c'è davvero una corda! Esatto! Guarda lì! Cosa? C'è la mano di una persona! C'è la mano di una persona che lo so! Oh davvero! L'ho messo anch'io! Questo significa che il gioco è reale e dobbiamo giocare! Aspetta, quindi dobbiamo entrare nel gioco? Sì! Ci sono le armi! Ci sono anche le armi in ogni stanza! Lo so, eh! Forse è tutto vero! Dobbiamo entrare nel gioco per buttarlo fuori da casa mia, ok? Aspetta un attimo! Che cos'è? Abbiamo un'ora di tempo a partire da ora! Un'ora? Solo un'ora! Raga, non è niente un'ora! E poi cosa? Cosa succede? Ok, ok! Cosa è uscito? Due, due, ok! Uno, due! Ma non puoi andare nel bagno! Ok, devi andare in bagno! Devo andare in bagno! Devi andare in bagno! Se posso, non puoi andare! E quindi cosa faccio? Non rispetto le regole? No, 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 no! Devo andare in bagno! C'è la mano! No! Ragazzi, guardate! Che schifo! C'è la mano! C'è una persona! No, 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 no! Io non ci voglio! Oddio, 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 oddio! No, no, no! Leo! No, no, no! Regali, io sono... Non possiamo fare niente se non ci succede anche a noi! Non ci possiamo muovere da qua! Esatto! Noi siamo qui nel gioco e non possiamo muoverci! Aiutatemi qua! Non possiamo fare niente! Leo! Leo! No, no, no! Ah! Cavolo! Ok! Ragazzi, non iniziamo per niente bene! Per niente bene! Ok, ok, ok! Ragazzi, dobbiamo continuare il gioco! Ormai siamo dentro! Sta a me! Celeste! Sta a me! Ok! Allora! Cinque! Uno, due, tre, quattro, cinque! Sala da biliardo! E c'è anche una spada nella sala da biliardo! Devo trovarla così prendo la spada e poi se posso ucciderlo! Devi essere veloci! Dove la sala da biliardo? Che se la mi devi prendere? Non lo so! Trova fuori, fuori, laggiù fuori! Dove è? Nella casettina, quella piccolina! Dai, lì fuori! Quale? Non so dove la sala da biliardo! E qua la sala da biliardo, vero? Come si è? Come si è? Ok! La spada! Devo trovare la spada! Ho trovato la spada! Tommaso aveva ragione! Ok! 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 Adesso stavi! Sì! Tira i danni! Muoghi! Cinque! È la sala da biliardo! Un, due, tre, quattro, cinque! Devi andare da Charlotte! C'è Charlotte! No! Ok! Io vado da Charlotte! Mi lascio sola! No! Lo so! Ok! Tranquillo! No! Io non resto sola! Io non resto sola! Ce la facciamo Ale! Mi dispiace! No! Ale non temere! Ok! Chiude! Ok! Ho le chiave! Ho le chiave! Sopi! Aiutami! Ok! Io chiudo! Ok! 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 Ho trovato l'arma! Allora il gioco è come diceva Leo! Ok! Adesso! È andato via! Uno, due, tre, quattro! La biblioteca! La biblioteca! Dov'è la biblioteca? Dov'è la biblioteca? Non mi ricordo dov'è la biblioteca! La biblioteca! È su! È su! È un povere! Non si apre! C'è una sola porta! Ecco la biblioteca! 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 Ah! 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 È andato! Alessandro! Non è che stanno da prendere ali! Ok! Allora! Adesso usciamo! Non c'è! Ok! Usciamo! E andiamo a salvare Leonardo e Alessandra! Veloce! 3, 2, 1! Scappa! Parto! 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 Veloce! 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 Dobbiamo continuare il gioco! Tiro gli agli! Ok! Sei! Non succede niente! Tommy! Robi! Non possiamo muoverci! Per questo c'è il mostro! E perché? Sta a Leo adesso! Lo sta a noi! Dopo Alessandra sta di nuovo a Leo! Perché è lui che ha iniziato il gioco! Quindi non c'è! Alessandra è dall'ultimo e lui è quello che ha iniziato! Ora sta a lui! Dov'è Leonardo? Dobbiamo prendere Leonardo! Leo dov'è? In bagno! Ok! Vieni! Piega un'allarma! 3, 2, 1! Leo! 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 Svegliati! Non ci credo! Ok! Ok! Ma cosa sono? Forse gli penso un po' di vento con la sveglia! Che gli ha fatto? Leonardo! Leo! Leo! Fogli un po' di aria! Fogli un po' di aria! Leo! Cosa gli ha combinato Leonardo? Guarda che respira! Non respira! Non respira! Niente! Non te va! Non respira! Leonardo ti prego svegliati! Non respira! Non respira! Non respira! Non respira! Leo! Non respira! Non respira! Leo! Sei svegliato? Cia! Oh! Cia! Non spira! No! 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 Basta! Leo! Forza! Forza! Ok Qui chiudo Ok Ragazzi Forza È uscito quattro Uno, due, tre, quattro Serra Dov'è la terra? C'è anche Che cos'è una motosega? Prendi la motosega Vai subito Sai dov'è la terra? Sì lo so Muoviti Arrivando L'ho motosega Devo trovare la motosega Eccola Lo sapevo Ok Ora posso andare da loro Quindi Quattro Più quattro Otto Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Biblioteca Ale Vai da Ale Ok vado a prendere Ale Stati appena hai fatto Vediamoci qua Che io cerco di prendere Ale Cerco di prenderla Fai attenzione Assista Strato Eccolo 눈 Termini Trato Hahaha Salt 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, studio, lo studio, ok, ho capito lo studio di qua, ok, vai, il candelabro, questo qua, perfetto, dormi, dormi, aiutami, cosa? Ale non si sveglia, muoiti, ma forza il candelabro, aiutami, che cosa stai dicendo? Dobbiamo portarla giù, muoiti, sta a lei adesso, è il suo turno, sta a lei? Sta a lei, è il suo turno, forza, dobbiamo portarla alla tavola, deve tirare i dadi, non so come farà, non si sveglia, sta arrivando, sta arrivando il mostro, no, 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 sta arrivando il mostro, ho chiudato, ho chiudato la porta a chiave, ho chiudato la porta a chiave, il mostro è stato mandato nella porta, muoviti, 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 dov'è il denardo? Leo, ecco, ok, muoiti, l'ho presa, e ora? Non so per arrivare il mostro, prima o poi riuscirà a capire la porta, ok, sta bene, se non tirai, ti arriva il mostro a prenderci, è venuta, è venuta, non so se è morta, ma io penso respira, si, non lo so, forza, 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 spresto, ma attento con questa motosega, è uscito quattro, uno, due, tre, quattro, così la c'è anche un'arma, ok, è uscito, ele è Europe gonna tentare più il mucina, lei deve stare con il mucina, noi non possiamo stare qui Eschi, noi non possiamo... O cavolo, fermo, Tomy! Tomy! Alia! Non salmi le mani che prendi un'altra volta! Chi sta adesso? Sta Leo! No! L'hanno rapito di nuovo! Bisogna prendere anche l'arma! Ale! L'arma che c'era qua! Il tubo! Ce l'ha Ale! Apprezza! Ce l'ha Ale! Però guarda! È lì sul tavolo guarda! Aspetta! Fermo! Fermo! Fai! Ce la faccia! Continuerà per sempre così il gioco! Dobbiamo capire come possiamo vincere! Quanto tempo ci rimane? Ancora 5 minuti! Mondanza! Quello è il problema! Ok! Ci rimane ancora 5 minuti per vincere! Quindi! Cosa facciamo? Soluzione! Aspetta! Se le armi ci sono è per un motivo! L'arma! Abbiamo quest'arma! Abbiamo questa! Abbiamo questa! Ci manca! La morta siga che ha Leonardo! Ce l'ha Leo! E poi ci manca il tubo di aree! Quindi adesso tu tieni questo! Aspetta! Andiamo a prendere tutte le armi a costo anche di fermare quel mostro! Forse se prendiamo tutte le armi vinciamo! C'è un problema! Manca l'arma! E questa è la corda che ha il mostro! Benissimo! Allora prenderemo l'arma del mostro da lui! Ok! Forza! Prendi scappa! Prendi scappa! Prendi scappa! Dalla! Dalla Leo! Forza! Prendi la motosega! Ok! Se la motosega è qui! Leo è là! È andato là! Leo! Zitta! Aspetta! Forse l'ha preso! L'ha preso il mostro! Ti ricordi? Lo seguo! Il mostro ha la corda! Quindi bisogna... Zitto! Il mostro è qui! Abbiamo tutte le armi qua! L'ultima arma che ci serve qui dentro! Se prendiamo questa l'abbiamo vinto! Allora! Appoggiamola! Allora! 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 Prendi la corda da lui! Prendi la corda da lui! La corda! Ma è legata! Ciao! Vieni! Forza! Presto! Presto! Abbiamo tutte le armi! Vieni! Abbiamo tutte le armi! Uno, due, tre, quattro, cinque! Ecco lei! Candela! Abbiamo vinto! Andiamo a vedere se Ale sveglia! Ale se sveglia! Ale! 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 Svegliati! Eccola! Sì! Vieni! Meravamo! Abbiamo vinto! Vieni! Abbiamo vinto! Chiudi quel gioco! Mettilo nella scatola! Non lo voglio mai più rivedere! Come stai? Ecco! No! Allora! Eccolo! Eccolo! Eccolo!